Grazie a tutti. Grazie Alfonso Sabella, già Assessore dell'Aggiunta Marino. Devo dire che Riccardo Maggi mi ha un po' fregato perché mi ha mandato un sms che era una tavola rotonda su Mafia Capitale, poi capisco invece che è una forte connotazione politica e consentitemi di rimanere fuori dalla politica. Io però devo a Riccardo tanto perché in questo periodo che ho passato in Campidoglio è stato per me, non dico il faro ma sicuramente la persona che più di ogni altro, io lo riconosco pubblicamente, più di ogni altro mi ha dato le indicazioni più corrette su dove andare a cercare o su quali dovrebbero essere le priorità. Devo dire il lavoro che grazie a Riccardo, anche se poi alla parte finale siamo arrivati, mi ha pure fatto un ricorso al Tar, ma insomma però è un vinto io. Il lavoro che abbiamo fatto su Ostia principalmente si deve alle carte che per primo Riccardo buttò sulla mia scrivania appena arrivato lì e quando mi illustrò qual era la criticità reale di quel territorio, la criticità reale del mare di Roma, di una città che ha una faccia al mare come Roma, che è l'unica grande capitale europea sul mare e che invece il mare non lo vede nemmeno perché qualcuno in tanto, tanti, tanti anni ci ha eretto un enorme muro che impedisce ai cittadini persino di vederlo in mare, non solo di accedervi. Abbiamo fatto quella battaglia, una battaglia che è stata difficile e complicata, però sono veramente orgoglioso di aver portato a casa un risultato che non è la banalissima apertura delle brecce su questo muro, ma quanto il riconoscimento che abbiamo avuto dal Consiglio di Stato dopo aver agito mano militari per l'apertura di quei varchi, di aver portato a casa dal Consiglio di Stato appunto il riconoscimento del diritto dei cittadini romani e non solo di accedere al mare, perché abbiamo tre ordinanze del Consiglio di Stato che dicono che quei varchi sono legittimi e quindi chi verrà dopo di noi avrà la possibilità finalmente di ridare ai cittadini romani quel pezzo di mare. Riccardo anche mi ha messo in guardia su altri aspetti, uno è quello che ha citato lui dei controlli interni di cui vi parlerò a breve ma l'altro è stato per esempio quello della manovra d'aula, sono andato a spulciare sulle varie manovre d'aula precedenti e ho trovato l'inverosimile, ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, ho visto una gara o pseudotale avviata con un fax spedito alle ore 17.58 del 24 dicembre con un'offerta che doveva essere presentata entro le ore 9 del 27 dicembre dello stesso anno, praticamente non so quale impresa fosse aperta la notte di Natale e il giorno di Santo Stefano però una cera che si prese direttamente 200.000 euro liquidate entro la fine dell'anno, entro il 31 dicembre per uno studio, 200.000 euro più IVA e varie altre robe, questi erano i frutti della manovra d'aula. Grazie anche sempre a Riccardo ho messo mano a questa vicenda dei controlli amministrativi controlli amministrativi era una questione, adesso non ci si può stupire perché c'è stata mafia capitale io ho trovato una cosa che è inverosimile, il fatto per esempio che il Comune di Roma avesse deciso al pari di altri comuni, attenzione, di riservare sia pur con delle peculiarità, addirittura non solo il 5 ma addirittura il 15% del proprio bilancio agli affidamenti diretti con cooperative sociali di tipo B questi affidamenti diretti sulla base di una presunta norma nazionale che esiste solo nella tradizione orale della terra di mezzo di Tolkien perché in realtà nessuna gazzetta ufficiale porta questa norma nazionale ma per molti sono convinti che ci sia è addirittura fino al 15% del bilancio di Roma capitale per servizi e acquisti alle cooperative sociali di tipo B, quelle di Buzzi e Carminati, tanto per non fare nome e cognomi con affidamenti praticamente diretti e al contempo siccome questi affidamenti potevano essere fatti a norma della legge sulla cooperazione quando erano inferiore alla soglia comunitaria che era di 200.000 euro nel fare il regolamento sui controlli interni l'Assemblea Capitolina decise legittimamente di non sottoporre a controllo tutti gli atti guarda caso sotto i 200.000 euro conseguentemente, lo so che è noioso, ma conseguentemente si è creata un'autostrada al crimine perché è stato detto tutto quello, il 15% del bilancio io lo do frazionandolo artificiosamente sotto il 200.000 euro in affidamento diretto in più non faccio nemmeno i controlli cioè, una follia, però è stata così questa è la Roma che ho trovato io quando sono arrivato la prima cosa che abbiamo fatto è quello non ho perso tempo con l'Assemblea Capitolina, consentimelo ma col piano per l'anticorruzione e la trasparenza abbiamo inserito, abbiamo incrementato i controlli sulle aree critiche e tutte queste le abbiamo tutte messe a critico portato il livello massimo abbiamo incrementato i controlli di legittimità successiva e preventiva addirittura fino al 30% degli atti considerate che sulla sanità nazionale la media dei controlli si aggira intorno all'1-2% quindi praticamente un livello che Roma Capitale ha adesso e che non aveva mai avuto prima di questo momento questo è stato quello che noi abbiamo fatto noi abbiamo cercato, grazie anche alle indicazioni di Riccardo il quale veramente ho condiviso la sua passione nel rappresentarmi le cose a cui dovevo questo ringraziamento pubblico perché mi ha veramente dato una grandissima mano in questo lavoro complicatissimo in cui mi sono messo sacrificando tante cose anche sul piano personale e familiare però devo dire la verità è stata una bellissima esperienza un'esperienza che ho vissuto che è finita in maniera purtroppo non molto felice voglio, permettetemi di dire una cosa di carattere politico una sola cosa io non sono fuori dal non faccio questo di mestiere la politica per me è una materia totalmente ignota ma chiunque chiunque avrà l'onere e l'onore di governare la Capitale per i prossimi anni guardia la prima criticità principale la macchina amministrativa romana se non si mette a posto la macchina amministrativa romana nessun grande progetto nessuna visione di Roma potrà mai essere realizzata veramente ho trovato una macchina amministrativa veramente disastrata disastrata non dico che sono tutti corrotti attenzione non sto parlando di corruzione sto parlando di gente normalmente impreparata perché purtroppo qualcuno ha detto che investire in cultura in formazione in preparazione professionale non riempie la pentola è vero forse sarà pure vero non riempirà pure la pentola però sicuramente impedisce che quella pentola venga sforacchiata dai Kalashnikov di Mafia Capitale e dall'acido delle mazzette della corruzione grazie grazie davvero ad Alfonso Sabella so che lo sto dicendo a tutti grazie davvero ma in questo caso particolarmente incisivo saluto la presenza in sala anche di Mario Staterini già segretario di Radicali Italiani e invito invece Guido Staffieri rappresentante dei giovani democratici a portarci alcuni spunti di riflessione ulteriore dopo di lui sarà la volta grazie a tutti grazie a tutti